Pavia, circa la 9 di mattina, un grado all'esterno, cestino dell'acqua a 2. Lo facciamo, punto e basta ragazzi. Lo facciamo, non è difficile. Si fa, si fa, si fa! Manuel, ti voglio bene. In questi giorni ti ho pensato tanto e qui dentro fa tanto freddo. Manuel, ti volevo dire una cosa. Quando mi sono lasciato con Noemi, dopo 9 anni e mezzo di relazione, una cosa che mi ha aiutato tanto, 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 è avere di fronte delle persone, parlarci e focalizzarmi su quello che mi dicevano, focalizzarmi sul loro stato emotivo, cercare di capirli, perché questo mi ha portato fuori dalla mia sofferenza e mi ha permesso di aiutare gli altri, di connettermi con gli altri. Nella connessione con gli altri è più facile uscire dalla nostra sofferenza. E poi ti volevo dire un'altra cosa. Manu, c'è stato un periodo della mia vita dove ero disconnesso dagli altri, dove non mi sforzavo di capire gli altri, dove non c'ero per gli altri. E quindi mi sono circondato di persone così, perché tutti noi attraiamo le persone che alla fine siamo. E quindi sai cos'è successo dopo? È successo che sono cambiato, ho iniziato ad ascoltare gli altri, e ad essere disponibile per gli altri. E così, nella mia vita, mi sono circondato di persone che erano disponibili per me, che c'erano per me, perché davvero attraiamo quello che siamo. E cambiando, noi ci conosciamo da tanti anni, anche la nostra relazione è cambiata. Come ci rapportiamo l'uno con l'altro è cambiato. La nostra relazione è cambiata per il positivo. Questo è il mio messaggio per te. Ti voglio bene. Quando mi senti, scrivimi, così ci sentiamo al telefono. E per chiunque mi sta ascoltando dai social network, ragazzi, il mio obiettivo è influenzare positivamente milioni, anzi miliardi di persone. E lo voglio fare con Pulse. Quindi se mi stai ascoltando sui social, vai sul link che ho in bio e abbonati a Pulse. Fai subito l'annuale. Influenziamo il mondo positivamente assieme. Aiutami a realizzare questo sogno.